Una Toyota per cause è ancora da accertare andata a fuoco questa notte in via Fratelli Angeletti traversa di via Montesanto a Sulmona. Tutto lascerebbe pensare a un atto volontario, ma sulle cause che hanno provocato il rogo sta indagando la squadra anticrimine del commissariato di via a Sallustio. È l'ennesimo caso che si verifica in città, non escluso che questa volta possa trattarsi di un atto intimidatorio. Il proprietario dell'auto sarebbe rimasto esterefatto davanti agli inquirenti che sono giunti sul posto per i rilievi di rito. Si parte da zero. Nessuno degli abitanti della zona pare si sia accorto di qualcosa, tant'è che non è arrivata nessuna chiamata al centralino del 113. È stata la volante, nel corso dell'attività di normale controllo sul territorio, ad accorgersi dell'incendio. Da lì l'intervento dei vigili del fuoco di Sulmona che hanno domato le fiamme. L'episodio di via Fratelli Angeletti si va ad aggiungere a folto elenco di auto bruciate negli ultimi anni. Una cinquantina di casi si sono registrati dal 2010 fra via Vezzano e via 25 Aprile. Solo due lunedì fa un furgone ha preso fuoco in via Spaventa. A Sulmona si attende la convocazione del comitato Interforce per disporre il piano di controllo coordinato del territorio, come disposto in un recente vertice in prefettura. Ma serve anche un restyling, la gara d'appalto per il servizio di manutenzione e riparazione delle telecamere, dal momento che il sistema di videosorveglianza non sempre è risultato utile alle indagini. Grazie.